eccoci cari monociclisti equadisti siamo a roma ore 16 siamo partiti a luna siamo arrivati al 16 siamo appena usciti dalla stazione dovete sapere che il regolamento ferroviario impedisce all'interno delle stazioni ferroviarie di utilizzare qualsiasi velocipede che però va bene uno non sta lì a dirgli non va bene perché è veloci questo non sono velocipede non fa niente che inutile cercare di tirare fuori il vino dai limoni si dice e quindi noi andiamo comunque può anche essere giusto adesso siamo nel traffico romano ragazzi caotico cioè al semaforo rosso il pedone romano attraversa noi abbiamo tentato di rispettare il verde come si fa normalmente a milano ma abbiamo scoperto che hanno i semafori sbagliati a roma cioè proprio impossibile non dovrebbe essere verde ed è rosso quindi il pedone romano attraversa con rosso perché semaforo non diventa verde cioè al di là di una certa se vogliamo volontà culturale a fare la marcata il semaforo è rosso quando dovrebbe essere verde quindi chiaramente questi se ne sbattono cioè a piedi via attraversamento selvaggio e cosa deve fare i romani sono fatti così amori come va come va se abbiamo sorpassato le buche abbiamo sorpassato i marciapiedi roma ragazzi a roma su 20 marciapiedi non ce n'è uno per i disabili ma proprio cioè una città impossibile improponibile ma questi non proprio e votano e questo però vabbè ognuno ha le sue ragazzi non entriamo nel merito infatti come stavano dicendo arriviamo qua e gradi nazi bastardi passeremo a destra questo dobbiamo fare l'unica cosa possiamo fare siamo passati e adesso dobbiamo girare a destra su viale pietro canonica perfetto signori dal fiore dalla giangi al a un parco di roma e giardini adesso sinceramente non abbiamo bene idea di dove noi si sia comunque faccio riprendiamo qua siamo da queste parti qua si li ho visti segue siamo un noleggio segue tra che eccoli quali due della segue spettacolari e adesso ci buttiamo in via pietro canonica che continuano a dire via pietro canonica via pietro canonica ma qui ci fosse a roma un'indicazione di su che via uno sia vabbè fa niente comunque lo prenderemo ragazzi dal ferro dalla giangi dalla roma guardala la giangi colbini saluta amore guardala guarda dal ferro con nine boot one sempre segue da roma un salutone ciao ciao